Caffarda E' il posto giusto da condividere con la famiglia, con gli amici e con chi si ferma per caso. E' il luogo ideale per chi volesse apprezzare la passione per la cucina di Nicola e dei suoi genitori. Cucina che non è soltanto mangiare. Perché quando si dice che la castagnuccia si è mangiato bene, siamo certi che si vuole dire tante altre cose. E queste altre cose sono i luoghi del nostro esistere. C'è il luogo di residenza, il luogo di lavoro, il luogo dei doveri, ma poi esiste anche il luogo dove vivere lontano dal quotidiano e la castagnuccia è questo esistere, fuori dai luoghi comuni. Un tempo qui vi era una masseria appartenuta a una nobile famiglia pentonese. I discendenti la trasformarono in un piccolo ristorante attivo nei periodi estivi, vista la tipica frescura di questo posto. Ci sono stati altri gestori, ma Nicola e la sua famiglia hanno pensato bene di non intendere questo luogo come un ristorante, bensì come spazio che ha la particolare caratteristica di essere connesso a tutti gli altri spazi, in modo tale da sospendere, neutralizzare o invertire l'insieme dei rapporti umani che ci rispecchiano. La loro cucina è fatta di piccole cose, ma soprattutto di piccoli gesti che si calano perfettamente nel clima familiare e amichevole, e che danno l'opportunità di vivere momenti di pura e semplice convivialità. Cafarda significa luogo freddo, ma quelli della castagnuccia lo riscaldano con lo stare insieme a chi viene a riposarsi dalle fatiche del quotidiano. Si potrebbero dire tante altre cose sulla castagnuccia, ma le parole non potranno mai sostituirsi al piacere di passare un po' di tempo in questo luogo incontaminato e a due passi da Catanzaro. Pertanto andate a trovarli per vivere e assaporare ciò che questo luogo è e rappresenta da sempre. La particolarità di questo ristorante, oltre alla location, come si dice oggi, è che si può gustare una meravigliosa cucina come la facevano i nostri nonni. Un motivo per cui chi ci sta vedendo dovrebbe venire qua in questo posto meraviglioso. Salve a tutti. Innanzitutto volevo dire che mio fratello, grazie all'aiuto della mia famiglia, dei miei genitori, della ragazza e di noi tutti, è riuscito a creare questo meraviglioso locale che regna appunto nella Presina. Qui potete trovare la qualità, innanzitutto la pulizia e un caloroso affetto da parte dei miei familiari che sono molto ospitali verso la clientela. L'ospitalità diciamo che fa parte di questo posto e di questa realtà della vecchia Castagnuccia. Salve, salve, buongiorno, buona domenica, benvenuti alla Castagnuccia. Lei da dove viene? Io vengo da Canada, Niagara Falls, Canada, ma sono nato a Pantone nel 1949 e sempre ritorno al mio paese che è il mio cuore. Personalmente non posso che complimentarmi con Nicola e con la sua famiglia, ci stiamo trovando benissimo, non è la prima volta che veniamo, cibo ottimo, bellissima atmosfera, che dire, in bocca al lupo. Quindi lei si trova qua per far visita a parenti? Visita a parenti sì, per una visita con mia figlia pure, a vedere tutte le cose d'Italia. Come ti chiami? Ezio. Ezio, da dove vieni? Da Catanzaro. Perché sei venuto qua? Eh, perché siamo venuti un paio già di volte e mi sono trovato bene, cucinano tutto buono. Cosa c'è di buono che cucinano? Allora, le patatine fritte che si vedono che sono fatte in casa, poi i crocchè, gli arancini, soprattutto quelli con l'anduia. È la prima volta che viene a mangiare alla vecchia castagnuccia? Sì, è la prima volta qui. L'accoglienza per il momento come le sembra? Benissimo, visto che le persone che hanno questo ristorante sono proprio belle. Li conoscete personalmente? Sì, a Pantone. Consiglio a tutti di venire alla castagnuccia perché è un ottimo ristorante, cuginano benissimo. E cuginano benissimo. Siamo alla vecchia castagnuccia, come si mangia in questo posto? È bene, molto bene, c'è roba genuina, quindi ancora siamo all'antipasto. Vedo che hai già finito. Sì. L'antipasto? Sì, sì. Com'era l'antipasto? È molto, molto buono. Ora attendiamo il primo e il secondo. Vogliamo salutare gli amici del Canada? Saluto a tutti il Canada, specialmente mia moglie Catherine e mio figlio Nicola e sua moglie Bria. Come fare per raggiungere questo posto? È molto semplice, basta comunque arrivare a Sant'Elia, sappiamo tutti dove si trova Sant'Elia e dopo la chiesa di Termini proseguire per altri tre chilometri. È molto semplice, si trova tra il mare e la montagna, accessibile a tutti e molto vicino alla città di Catanzaro e ai paesi limitrofi da Pantone. Grazie a tutti. Grazie a tutti.